Sushi Playwall Sushi Playboy Sì, vabbè, buongiorno Sushi Playboy, innanzitutto io oggi sono entrato in collusione e ho visto questo striscione del sushi, che non è gratis ma costa poco, e ho detto chi ha deciso di metterlo lì è un ganza meno male sotto i tre anni è gratis dai 3 ai 10 non lo so questa è una novità, nessuno l'aveva ancora detto sotto i tre anni è gratis portate frotte neonati abbiamo le cuffie anti-intortunistiche per non intortarli così la papera è a posto e abbiamo qua un po' di roba il cameraman può può agevolare sì, stiamo cominciando a montare stiamo cominciando a montare si vede qualcosa si vede qualcosa? 4 flex, panoramica, grand'angolo esatto, saluto a tutti ciao ciao poi mandiamo nudes appena abbiamo montato mandiamo nudes perfetto montiamo e nudes grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti